Ciao ragazzi e bentornati a Che Film? Vediamo stasera. Oggi parliamo di un film uscito da poco nelle sale, ossia The War, terzo e ultimo capitolo della nuova saga, chiamiamola così, del pianeta delle scimmie. E prima di partire con le solite analisi sulla valutazione di questo film, allora, il pianeta delle scimmie è una saga vecchissima, che mostra un universo, diciamo, alternativo, o un futuro, quantomeno alternativo, in cui il pianeta è governato dalle scimmie. E noi umani rappresentiamo ormai un passato della storia evolutiva del nostro pianeta. Il film, a suo tempo, soprattutto il primo, fece molto scalpore e colpì molto, anche perché si approcciava al tema in modo differente, cercando di approfondire alcuni aspetti che, in tutto questo setting, potevano essere facilmente inseriti, a livello proprio di emotività e di, diciamo, temi scelti e trattati. Punto più basso di questa saga, il reboot pessimo di Tim Burton, quella sorta di monnezza. Una delle cose peggiori che Tim Burton abbia mai fatto. Ma questa saga era destinata a tornare e l'ha fatto con due film. Attualmente questo è il terzo che chiude la trilogia. Come potete vedere, qui abbiamo il primo, l'alba del pianeta delle scimmie, in cui comincia quest'epopea e in cui ci viene narrato un po' come queste scimmie si siano evolute, come siano nate e che introduce un personaggio che poi sarà centrale per tutta la saga, ossia Cesare. Cesare è il figlio di una delle scimmie a cui si stava sperimentando nel primo capitolo di questo film un farmaco per curare l'Alzheimer. Questo farmaco risulterà essere negativo per le persone e porterà quindi a una vera e propria moria di massa, a una sorta di epidemia. Un'epidemia senza il sorta, perché stiamo parlando di un virus. Ma porterà nelle scimmie uno sviluppo cognitivo e quindi le farà diventare i futuri dominatori del mondo. Nel primo capitolo abbiamo un inizio, una narrazione che si concentra sulle vicende che porteranno alla nascita di Cesare e al suo sviluppo. Cesare qui sarà approfondito come personaggio principale, o quantomeno uno dei personaggi principali. E soprattutto questo primo film ci darà modo di capire come Cesare degli umani sappia molto, riesce a vedere i lati negativi, ma soprattutto ha anche una chiave di lettura differente e positiva del genere umano, proprio perché ha avuto modo di regarsi molto con alcune persone che sono state per lui una vera e propria famiglia e quindi di poter vedere quanto di bello in noi uomini, se tralasciamo le montagne di merda, c'è. Questo primo capitolo finiva con la fuga dallo zoo, diciamo, da tutte le varie strutture di contenimento di tutte queste scimmie superintelligenti che si andavano, diciamo, a rifugiare in una foresta di sequoie. Da qui facciamo un passo in avanti. Il mondo sta andando a rotoli, il genere umano si è quasi estinto perché il virus ha continuato a mietere vittime, quei pochi rimasti sono organizzati in gruppetti, e le scimmie, le scimmie continuano il loro corso. Hanno cominciato a organizzarsi in una sorta di società e tutto questo lo vediamo nel secondo capitolo. Apes Revolution. Un secondo capitolo che invece si avvicina molto di più a quelli che erano i vecchi pianeti delle scimmie e quindi si concentra sulla società che Cesare sta mettendo su e su come questa società sia contrapposta poi a quel che resta della precedente società e quindi agli umani. Questo secondo capitolo è incentrato sulla figura poi e sul contrasto di Koba, una scimmia, una delle primissime scimmie che abbiamo già conosciuto nel primo capitolo, ma che ha visto e ha potuto conoscere e sperimentare sulla sua pelle solo la brutalità della specie umana e che quindi da questa è segnata e in questo secondo capitolo, forse il più bello della trilogia, avremo modo di vedere proprio la contrapposizione fra questi due carismaticissimi primati. Ed arriviamo finalmente al terzo. The War, o titolo originale, The War for the Planet of the Apes. Notate già che c'è una sfumatura differente nella scelta di questi due titoli. Piccola ma sostanziale. Ma per parlare di questo andiamo alla valutazione finale. Il voto che mi sento di assegnare a questo film è 23 su 25, ragazzi, uno dei voti più alti. Non è un capolavoro e non stiamo parlando ovviamente dei film di grandi artisti. È un film che mediamente nasce con una natura come tutta quella della trilogia, molto commerciale, ma che non per questo si vuole limitare e sceglie di utilizzare tutto il contesto del pianeta delle scimmie per ancora una volta parlare di tematiche e anche un po' di noi stessi attraverso un'ottica, un punto di vista completamente diverso, quello delle scimmie. Questo terzo capitolo chiude, e secondo me la chiude in un modo ottimale, la trilogia. Il cerchio viene finalmente chiuso e con degli elementi anche che ritornano in realtà dal primissimo e dalla tematica principale che poi è sempre stata una tematica importante per tutta la saga del pianeta delle scimmie, ossia l'uomo che se ne sbatte della natura, a un certo punto la natura gli si ritorce conto. E questo tornerà proprio a chiusura di questa saga e a passaggio di consegne il genere umano lascerà il posto in qualche misura alle scimmie che ora saranno destinate ad essere quello che poi erano da sempre in questa saga, i nuovi padroni del pianeta Terra. Ma questo film vuole chiudere una storia, quella di Cesare. Il film infatti ci narra proprio le vicende di Cesare e come in questo film Cesare abbia subito una trasformazione. Cerchiamo di capire un po' perché, senza ovviamente entrare negli spoiler che tratteremo giusto per alcune cose, in realtà alcune critiche che possono muovere al film sul finale. Questo film dicevo chiude Cesare, in che modo finisce di dettagliare un aspetto di Cesare, l'aspetto più cattivo, l'aspetto più irruento, il Kobe che dentro Cesare vive. Perché Cesare ovviamente ha visto le brutture, ma ha sempre fatto di tutto per salvaguardare la specie umana, in qualche modo, per cercare di vivere entrambi su questo pianeta. Ma le brutture della vita e soprattutto la paura degli esseri umani per il rischio appunto della loro supremazia sul pianeta li porterà ad agire come spesso agiscono gli umani, in modo spaventato, ossia guerra. Continuare e possibilmente magari chiudere quella guerra che avevamo già imparato a conoscere, diciamo, dalla seconda metà in poi del secondo film. Quindi la tematica poi principale che porterà avanti tutto questo film sarà la vendetta, la vendetta di Cesare. Una vendetta che ci farà vedere quindi altri aspetti di Cesare e andrà a completare quel dipinto perfettamente dettagliato per quanto mi riguarda di questo personaggio. Una precisazione, la mia valutazione è stata una valutazione molto alta. Secondo me, molte persone che usciranno dalla sala non saranno d'accordo con questa valutazione. Per un semplice fatto, questo film è stato presentato nel modo più sbagliato possibile, secondo me. Partiamo dal titolo The War, la guerra. Ok, aggiungiamo il trailer, milioni di scene di azione. È il tema della guerra che ritorna, anche in tutte le parole che si sono scelte per questo trailer. Ma abbiamo un problema, questo film in realtà è più un drammatico che un film d'azione. Abbiamo più scene emotive, e magari caratterizzate da un tentativo di aggiungere emotività, di aggiungere spessore anche morale, rispetto delle scene di azione. Le scene di azione si contano davvero su una mano. Sono scene di azione tutte interessanti, ma sono poche. La maggioranza di queste scene sarà sviluppo psicologico dei personaggi, sarà nuovi dettagli su questo universo, con una novità assoluta, tra l'altro, che non vi voglio in alcun modo introdurre. Ma sarà questo, sarà un film drammatico, un film emotivo con le scimmie, sotto un punto di vista differente, quello di Cesare e del suo gruppo. Ora, questa cosa ha creato scontenti. Quando io sono uscito dalla sala, ho sentito molti commenti negativi di persone attorno a me, e secondo me questo film non merita questi commenti. È chiaro che però, se me lo presenti con un film d'azione, in cui la guerra è centrale, e io vado a vederlo per quello, ci resto male. Io personalmente sono restato piacevolmente colpito. Forse avrei gestito meglio i ritmi, ma ne parleremo più avanti. Ma questo film chiude perfettamente tutto quello che ha introdotto precedentemente, tutta la narrazione, sia per quanto riguarda le vicende delle scimmie, le vicende del genere umano, e soprattutto per quanto riguarda Cesare, personaggio magistrale che è centro e fulcro di tutta questa saga. Quindi io vi consiglio caldamente di vedere questo film, ma vi consiglio di tenere a mente questi elementi. Questo è un film che ha delle scene importanti anche d'azione, ma non è un film che è solo d'azione. È un film, ancora una volta, emotivo, in parte drammatico, con degli elementi morali interessanti. Per sviscerare tutto questo però, andiamo nella pagella. Partendo con il solito voto a fotografia, regia e montaggio, a cui mi sento di assegnare un 4,5. Mi sarei potuto quasi sbilanciare su un 5, per quanto questo film mi è piaciuto. Ha un'ottima fotografia generale, la regia è molto bella complessivamente, e certe immagini restano, anche nel trailer le potete vedere, alcune di queste, e riescono a colpire. Poi il fascino per questo universo, che ne parleremo fra poco, è molto forte. L'unico neo che mi sento personalmente di magari sottolineare è la lunghezza di certi campi. Per cercare probabilmente di aumentare il senso, diciamo, complessivo, emotivo, e caricare ancora una volta le scene, molte scene sono state forse un po' troppo allungate, molte sequenze semistatiche sono state troppo lunghe. Questo ha, insieme ad altri piccoli elementi che andremo a vedere più avanti, rallentato un po' troppo il ritmo, e reso complessivamente il film meno performante. Per quanto riguarda invece la direzione artistica generale, voto di 5. Voto che si va ad aggiungere, anche, e lo metto tutto insieme, a quello degli attori. Anche qui un altro 5. Perché questi elementi diventano unico, ovviamente quando parliamo di tanta computer grafica, di tanto motion capture, quindi appunto cattura delle espressioni facciali, di Cesare su tutti, ex column, ricordiamo, l'attore è lo stesso. Ma di tutte le scimmie in genere, tutto questo è reso in modo magistrale, il mondo di queste scimmie, e il mondo che era nostro, che sta andando alla rovina, è molto bello. È reso magnificamente certe scene, in cui magari vediamo una sorta di giungla quasi. Poi sembra sempre molto strano, visto che parliamo del Nord America, ma sti cavoli. Però vedere il Pullman, o quegli elementi tecnologici immersi in un universo più naturale, affascino senza ombra di dubbio. Come affascino appunto la resa di tutti questi attori virtuali, affiancati anche, in buona parte, da dei buoni attori in carne e ossa. Forse sicuramente meno di rilievo, a parte il ruolo da cattivone. Si sente ovviamente l'assenza di una figura carismatica di contrasto, come Coba, ma il cattivo scelto per questo film funziona perfettamente, ed è perfettamente inscenato e costruito. Quindi, ribadiamolo ancora una volta, questi due elementi sono molto validi, e si meritano un 5 ognuno di essi. Ed andiamo invece a trama, intreccio e ritmo, con una valutazione un po' più bassa. 3,5. Una valutazione sempre positiva. Nonché il punto che mi ha messo più in difficoltà, perché in realtà la trama e l'intreccio sono interessanti. Forse a tratti un po' scontati e banali, ma comunque sia interessanti. Il nodo più lento, diciamo, di tutta questa maglia è il ritmo. Il ritmo a tratti, come dicevo, anche per alcune scelte registiche, è un po' troppo lento. E soprattutto, alcune scene, due cose non mi sono piaciute particolarmente. Una sorta di comicità, che forse è messa qui per stemperare certi elementi, ma che dal mio punto di vista è stata troppo forzata. E quindi, ancora una volta, mi ha fatto storcere il naso, perché mi è parsa un po' fuori dal margine massimo concesso. Ecco, ok, il personaggio che fa sorridere l'ho apprezzato anche molto, ma non così tanto, non sempre. E poi, una scena davvero mal fatta, dal mio punto di vista. Scena importante, emozionante, forte, ma non affiancata da una regia di livello. E secondo me si poteva trovare con una facilità incredibile una soluzione migliore a questa scena. soluzione che avrebbe sicuramente contribuito a non dissolvere un po' quell'incanto che serve sempre in un film, soprattutto quando vediamo qualcosa di completamente diverso dalla realtà. Peccato, ma di questo ne parleremo più avanti nella nostra parentesi finale spoiler. Prima di andare avanti, arriviamo all'ultimo punto, che si merita un altro 5, per emozioni, coinvolgimento e temi trattati. Perché? Perché il film, come ho detto, è quasi un film drammatico. Ci emoziona fortemente e voglio premiarlo. Voglio premiarlo perché poi riesce a emozionarci facendoci vedere delle scimmie. Ok? Cesare ormai per noi è quasi di famiglia, è quasi un umano. Ed in più la scelta di tutti i temi torna a essere ancora una volta preponderante. Ok, non stiamo parlando di Shakespeare, è ovvio, ma stiamo parlando di un film che dice per una volta non voglio essere semplicemente frivolo, ma voglio osare, voglio dirvi qualcosa di più, cosa che aveva già fatto in realtà nei due precedenti capitoli, ma che ancora una volta ritorna e merita, dal mio punto di vista, questa valutazione massima. Quindi, in conclusione, prima di salutarci e parlare un po' più di alcune cose sotto spoiler, vi invito caldamente a recuperare questa saga se non l'avete fatto. Secondo me delle saghe fantascientifiche recenti è una di quelle più valide e più interessanti. Il secondo capitolo resta forse il più bello dei tre, ma anche questo terzo capitolo è molto interessante. Il primo è un po' semplicistico in certe cose, è sicuramente il più acerbo dei tre, ma ci dà quegli elementi che comunque deve darci un primo film e quindi tutta la saga consigliata caldamente. Detto questo, come sempre, vi invito iscrizioni, like, condivisioni, bla bla bla. Ci si ripete la prossima settimana e per chi avesse già visto il film o voglia vedere gli spoiler fregandosene, aspettate qualche istante e torno subito da voi. Allora, partiamo intanto dalla cosa minore, la questione comicità. Il personaggio comico l'ho apprezzato, però troppo, sempre, in momenti anche alle volte sbagliati e questa cosa mi ha proprio infastidito, quindi mi dispiace. Quello scimpanzè è davvero carinissimo, ha una sorta di vecchietto con l'Alzheimer, però troppo, troppo. Mi ha ricordato un po' quella comicità iniziale che c'è nei Guardiani della Galassia in cui ogni tre secondi vuoi mettere qualcosa. Qui non è ogni tre secondi, è più centellinato perché comunque il minutaggio di questo personaggio sull'epellicola è minore, però non è che in tutte le scene questo deve essere un coglione, insomma, ok? Puoi riuscire a dettagliarmelo e a farmelo stare simpatico e farmi sorridere anche forzando meno la mano, ma quei magari sono gusti personali. Invece, scena problematica, la scena della bimba che entra nel campo dei militari e poi porta a Cesare la bambola che sarà tra l'altro chiave poi nella conclusione del personaggio perché farà ammalare il nostro cattivone di turno e dà da mangiare e da bere a Cesare dandogli un po' quella spinta. È una scena bellissima a livello emotivo perché ci dice un po' chissà quale sarà la direzione del genere umano, forse sarà proprio questa, diventare dei vassalli, degli animali quasi, con un affetto sicuramente maggiore, con degli elementi, diciamo, emotivi maggiori, ma comunque un passo indietro a livello evolutivo rispetto a ciò che siamo ora ed è molto bella, ma soprattutto è molto bella perché si riempie di significati simbolici, è proprio bella, è forte, è intensa, ma è girata male. Perché è girata male innanzitutto? perché intanto sta bambina è entrata nel campo passando dal loro muro di guardia, tra la la, tra la lì, arriva lì, passa vicino ai soldati, fa quel cacchio che vuole, nessuno si accorge di niente. No, non si gira così. Ok, la vuoi fare perché è una bella scena e io questo lo capisco. La risolvi facile dal mio punto di vista e questa cosa mi ha fatto proprio a mattì. Per esempio, perché non hai scelto di collocare le due gabbie in un posto magari meno evidente? Lei si introduce e io ci posso passare oltre il fatto che i soldati non la notano, no? Perché magari in una zona isolata è sti cazzi e invece no, è accanto alle baracche dove vediamo milioni di soldati e in più quando lei passa noi vediamo soldati ai margini dell'inquadratura, vediamo gente che si muove, vediamo luci un po' dappertutto e nessuno nota una bambina a centro di cazzo, a centro di campo che sta lì pure un sacco di tempo. Vuoi mettere questa scena? Io lo capisco perché ci sta bene ed è bella. Ma cazzo, bastava gestirla meglio, mi facevi, non mi facevi vedere i soldati, me la facevi un po' più buia e io pensavo è notte, sono pochi, sanno che l'attacco che stanno aspettando è numeroso quindi si rilassano e quindi nessuno se la caga e va bene, invece no, io vedo un uomo a destra se ricordo bene quando le passa dal muro e quello sta di spalle che si sta facendo i suoi cavoli la bimba passa tipo a 4 metri a passo proprio tranquillo e quello non si girerà mai. Gli uomini nella baracca 20 metri più avanti chiacchierano, fanno, ridono, nessuno, si gira anche solo per un istante, è tutto aperto, cioè così crolla la credibilità della scena e quindi diventa un vabbè ma che cazzata, ma dai, ma te pare che non la vedono? Eh, esatto, perché l'hai girata male, bastava, ripeto, fare 4 correzioni è la cosa che mi ha lasciato più scioccato è stata proprio che non l'hanno fatto, perché non ci avete pensato? Cioè, quanto ci voleva? E niente, queste sono quelle cose che nei film davvero non sopporto perché rischiano di far crollare l'incanto e quindi rendere un film poco credibile soprattutto quando sono poi scene importanti per tutta la fuga di queste scimmie, addirittura per il passaggio finale col cattivone che se è preso il virus è diventato un ritardato, cazzo, 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 un vero peccato. E niente, ora che mi sono tolto questo peso dallo stomaco ci possiamo salutare davvero e ci rivediamo la prossima settimana. Devo ancora decidere cosa mostrarvi, detto questo per ora vi risaluto per la milionesima volta, grazie sempre per la vostra attenzione, ciao ragazzi, alla prossima e buona visione! e buona visione! Grazie! Grazie!